C'è un panorama molto ricco che inizia dalla mattina alle 9.30 con un tributo ai martiri di Colle Pineta, il cippo della scuola 11 febbraio, e poi ci sono le celebrazioni ufficiali e istituzionali di Piazza Garibaldi, poi ci sarà una pièce teatrale bandita e ispirata ai Patrioti della Maiella, e poi nel pomeriggio dibattiti, sport, flash mob, un panorama ricco e articolato per ricordare una data simbolo della nostra Repubblica che oggi si vorrebbe svilire confinandoli in polemiche politiche assurde. Il 25 aprile è la festa della democrazia, è la festa della liberazione, se non ci fosse stato il 25 aprile del 1945, oggi probabilmente noi non staremmo qui a parlare, non ci sarebbe la libertà di stampa, i sindaci non sarebbero eletti democraticamente, tanti valori che non dobbiamo ricordare, che non dobbiamo, scusate, dimenticare, ma al contrario dobbiamo tenere bene a mente la lezione della storia, per cui la democrazia e la libertà sono stati frutto di un percorso sanguinoso, difficilissimo, la guerra, la resistenza, e poi naturalmente la nostra Repubblica che è sorta su quelle macerie, quella del secondo conflitto mondiale, la nostra carta costituzionale che ha recepito i valori, ahimè, conquistati davvero col sangue di tanti e io penso che non si debbano contrastare con forza rimozioni, per cui si pensa che tutto è scontato, che tutti sono uguali, no, è una scelta di campo molto chiara, democrazia contro il resto.